questo lo conosciamo però lo iscrive al prototollo ora si porta alle visite per capire se piace sia morfologicamente che le misure distinchi l'altezza e poi intanto si capisce se alle misure o meno è sicuramente un qualcosa in più poi dopo magari farà mociano fra il protocollo e poi destinato comunque anche a fare pali fori perché comunque un cavallo questo un po parecchio nel senso la pedalata ce l'ha l'esperienza ormai ce l'ha quindi è un cavallo che è destinato anche a fare ferrara fucecchio asti insomma i pali quelli dove serve anche cavalli insomma abbiano caratteristiche come le sue ecco volture vai li fai tu passi si fa guardare tanto questo non si è veloce neanche c'è il balzana che ci dà la mano qui c'è la figlia ora eccola un'altra 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 vai a posta un'altra